Radio Raccontiamoci! Food sounds good! Cibo e musica, connessioni e benessere a cura della dottoressa Benedetta Callegani Conduce Simona Tonini I sapori del Natale, seconda parte E poi un'altra tradizione che mi è piaciuta molto del Veneto è però legata all'epifania perché la sera prima, il 5 di gennaio vengono preparate delle cataste di rami e cane di gran turco a cui poi viene dato fuoco è la notte chiamata Panevin dove il più giovane della casa accende il rogo utilizzando un pezzo di legno mezzo bruciato e conservato dalla notte di Natale con la presenza di tutta la gente del vicinato, della borgata, del paese e insieme poi si mangiava la pinza che è un dolce tipico e gli ingredienti utilizzati per creare questo dolce sono sempre di tradizione contadina come il pane raffi fermo, il latte, le uova, lo zucchero, le mele, l'uva passa, il miele tutto insieme e viene abbinata al vino rosso ovviamente da buoni veneti, immancabile in particolare al fragolino o al vin brulee e il rituale ha un significato molto lontano perché è legato al culto del sole, del fuoco e delle civiltà pre cristiane infatti il rito è un esorcismo contro la paura degli uomini di perdere durante il sostizio d'inverno il sole e la fertilità della terra si guarda fondamentalmente dove va il fumo per capire se la terra sarà fertile o no se ci sarà buona fortuna o no quindi legato sia alla tradizione agricola come tradizione esatto poi cambiamo ancora andiamo nelle marche ok scendiamo scendiamo nelle marche anche nelle marche ci sono delle tradizioni scendiamo iniziamo a scendere un po' allora è diverso il Natale nelle marche cosiddette sporche che sono il sud delle marche provincia di Ascoli, fermo in parte macerata e nelle marche alte o nobili che sono della zona di Ancone e di Pesaro io faccio riferimento più alla zona del sud delle marche perché è uno dei miei più cari amici proprio della provincia di Ascoli e mi raccontava che la preparazione del Natale inizia dalla vendemmia quindi inizia mesi prima perché nelle zone dell'entroterra l'uva spesso non raggiunge la gradazione zuccherina sufficiente e allora il mosto non ancora fermentato veniva cotto per farlo concentrare e raggiunta la gradazione zuccherina desiderata veniva fatto fermentare per avere un prodotto del tutto simile al vino che veniva poi fatto invecchiare in botti piccole dai 50 ai 100 litri per intendersi come dimensione ed è il famoso vino cotto era un prodotto custodito proprio come un tesoro dalle famiglie e a Natale lo regalavano ai periti così chiamati di loro fiducia che erano il medico della mutua, il farmacista, l'avvocato tutte persone, tutte figure che potevano essere d'aiuto insomma per la famiglia poi successivamente si passa alla raccolta delle olive famosissime le olive alla scolana che io adoro assolutamente e veniva fatta prima la raccolta precoce a mano per le olive da cura che vuol dire da mensa e la tenera scolana si metteva a deamarizzare con la soda o in alternativa con il carbone e successivamente all'insaporire in salamoia con il finocchietto selvatico con il finocchio selvatico e una parte di queste olive erano lavorate poi per la frittura di Natale l'olio invece veniva utilizzato un po' per tutte le pietanze è difficile però dire se l'olio fosse tutto extravergine di oliva perché la raccolta poi era tardiva e si puntava sulla quantità a scapito della qualità e la trasformazione era fatta con evidenti conseguenze di ossidazione della salsa da estrazione quindi probabilmente veniva corretto in qualche modo poi poco prima del Natale solitamente dopo la prima gelata si svolge nelle famiglie contadine la salata del maiale uno o più suini che vengono allevati dalla famiglia vengono uccisi a domicilio nel periodo natalizio il comune addirittura dispone un'ordinanza specifica per poter svolgere l'uccisione di questo maiale a casa o patto ovviamente di rispettare le norme cruelty e di igiene ovviamente e del maiale da tradizione si raccoglie tutto subito si cucina il sangue in padella si fa coagulare e viene tagliato in pezzi con le cipolle poi si cucina una pasta con il sugo delle animelle fresche dopo 24-36 ore si procede a sezionare i vari salumi tra quello più marchigiano è il ciauscolo che è una via di mezzo tra una salsiccia fresca e un salame ovvero ha la grana come quella di un salame però è spalmabile come una salsiccia fresca poi ovviamente questi tagli di carne accompagnano tutte le festività del Natale e gli ultimi prodotti verranno che sono la spalla e l'arto anteriore verranno stagionati e verranno consumati tra carnevale Pasqua il prosciutto addirittura si consumerà all'estate successiva però tutte queste tradizioni poi in realtà ad Ascoli Piceno le festività del Natale cominciano dal 9 dicembre dalla vigilia della Madonna di Loreto che sarebbe proprio il 10 di dicembre e in questo giorno si mangia di magro pasti poveri rigorosamente senza carne e quindi come menù ci sono di solito ceci bolliti serviti con un filo d'olio nell'acqua di cottura no brodo, assolutamente non brodo ma solo acqua salata e rosmarino per insaporire e poi i rifritti cioè le frittelline di acqua, latte e farina fatte friggere in olio di semi mai di oliva è rarissimo che si frigga in olio extravergine di oliva nelle marche ad arricchire poi broccoli lessi, alici, spicchi di mela rossa che è una varietà proprio marchigiana oppure lisci, senza nulla assolutamente nessun genere di alcol né vino né super alcolici o digestivi praticamente si ripeteva la cena lo stesso poi si ripeteva la cena con l'eventuale cottura del baccalà in agrodolce cotto con l'uvetta, pinoli e sporcato con un pochino di pomodoro appena appena lo stesso menù del 9 di dicembre si ripete la vigilia l'unica cosa al massimo l'unica variante può essere il primo piatto a base di zite che sono dei bucatini molto grossi col sugo di tonno live verdi, denocciolate che sono proprio la scolana tenera e abbondante salsa di pomodoro regola fondamentale ti devi macchiare la camicia se no vuol dire che non ti sono piaciuti a seguire poi sempre baccalà e per finire il dolce della tradizione che è il frustingo che è una ricetta con grani misti miele a volte addirittura si metteva anche il sangue di maiale appunto legato alla macellazione casalinga il giorno di Natale invece ci sono i cappelletti che sono sempre piccoli tortellini in brodo di cappone anche qua si ripresenta la ovviamente immancabile frittura mista alla scolana con olive cremini ci sono anche le costine di agnello panate e la misticanza insalata con almeno però la regola è che ci siano 5 essenze diverse 5 erbe diverse e poi il frutta mista sia secca che colposa il frustingo appunto questa famosa questo famoso dolce e il torrone ma al cioccolato che è nel caso di Ascoli aromatizzato all'anice e prodotto da uno storico caffè di Ascoli Piceno in particolare Meletti si chiama e questa è la tradizione di Ascoli Piceno poi Ascoli ha delle colline che sono vicine all'Abruzzo e allora per le tradizioni abruzzesi ti dico che è tutto molto simile cambia però il primo piatto della vigilia perché da loro sono molto diffuse le crispelle embosse e il timballo che è un timballo di crispelle fondamentalmente per le crispelle si intendono delle mini frittelline molto simili alle crepes francesi che vengono arrottolate a mo' di sigaro e fatte bagnare nel brodo un bosso vuol dire proprio bagnato sì oppure sono utilizzate come pasta per fare strati con la carne e il sugo tipo una lasagna ecco tipo nella zona di Pesaro di Teramo scusami questa è la zona e qua cominciamo già benedetto a trovare qualcosa di diverso no? troviamo già qualcosa di diverso da noi perché sono più o meno le miglie al Veneto così non dico che ci assomigliamo ma quasi no? come qua cominciano proprio ad avere dei piatti che se non siamo stati lì non abbiamo mai mi hai visto scendi pure andiamo scendiamo nel basso Lazio con Gaeta quindi andiamo al mare e è una vigilia tutta a base di pesce con le famose tl gaetane che è una pizza ripiena di pesce fresco e verdure tipo scarola e tonno poli piccozze ed è una tradizione legata a una ricetta che preparavano le moglie dei pescatori che le davano ovviamente ai loro mariti e stavano fuori per giorni quindi era buona mangiata anche fredda resisteva per un po' di tempo le mozzarella di bufala in versione treccia oppure bocconcini bianchi o fumicati a forma di nodo che sembrano proprio dei nodini poi dei formaggi casi marsolini che sono dei formaggi di capra o di pecora stagionati che possono essere sia bianchi oppure ricoperti di spezie come l'origano e il peperoncino il primo è sempre a base di pesce tipo spaghetti con le vongole di secondo ci sono molti broccoletti con il pesce tipo le parnocchie o il polipo o le alici fritte un altro piatto sono le alici sotto sale e come dolci gli strufoli le paste di mandorla biscotti rombi che sono rombi al cioccolato ripieni di frutta candita morbidi oppure biscotti rococò che sono invece delle ciambelline più dure gli sutramielsi che sono biscotti a forma di S e a Natale invece c'è più carne si parla di piatti più tipo lasagne o cannelloni non possono mai mancare ovviamente le classiche olive di gaeta nere o verdi o rotte tagliate condite con finocchietto e peperoncino e come usanza non culinaria molto carina c'è la vigilia e la feccolata con la messa poi il presepe il presepe marittimo tutto fatto di legno e la notte di capodagno di capodagno ci sono gli sciusci che sono dei gruppi di persone di musica popolare che vanno a suonare tutte le case a volte le famiglie li possono addirittura chiamare farli suonare nei cortili oppure sono proprio sparsi per la città e hanno strumenti anche lì molto popolari non sono i classici tipo martelli e urzi e quando bussano alla porta di solito gli devi offrire anche una ricompensa soldi panettoni torroni qualsiasi cosa che possa ricambiare la loro visita e così appunto portano fortuna e il primo dell'anno sulla spiaggia più famosa la principale di Gaeta che è la spiaggia di Serapò ci sono delle persone vestite da Babbo Natale che fanno il primo bagno dell'anno e poi brindano con tutta la città che freddo si fa fare il bagno il primo dell'anno questa qua è anche in Liguria non so se mi è capitato di essere in Liguria il primo dell'anno c'è proprio c'è il bagno fanno il bagno si tuffano sì sì mi è capitato più volte aiuto aiuto senza la muta non con la muta da sub col costume no no sì aiuto aiuto che freddo poi andiamo in Calabria andiamo ancora un po' più giù allora Calabria la vigilia è più importante rispetto al Natale di solito si mangia anche lì tanto pesce famoso soprattutto il baccalà fritto il baccalà alla varace con aglio pomodori peperoni e ovviamente immancabile il peperoncino che c'è ovunque in Calabria e la zuppa di pesce in Natale di solito si mangiano carni come l'agnello il capretto al forno o in vino o cotto in una pignatta e come sono famosi anche i culurielli dall'immacolata fino a Natale che sono un impasto fatto di patate farina lievito fritti a forma di ciappelline che sembrano un po' dei krapfen ma salati e si mangiano con i salumi e i formaggi poi come primo ci sono anche tagliatelle o tortelli con la duca ovviamente le melanzane secche poi fritte con una salsa di aceto e peperoncino come dolci c'è la pignolata che sono molto simili agli struffoli napoletani ma che sono dei gnocchetti di impasto a base di farina e uova poi ovviamente fritti e rotolati nel miele saporiti da scorzette di mandarine fresche o mandarine canditi a pezzetti e fichi secchi con nocciole e ricoperti poi di cioccolato e un altro famoso dolce sono i turdilli che sono sempre dalla forma caratteristica che ricorda sempre quelli degli gnocchi con la rigatura e vengono realizzati con un semplice impasto di farina olio ed in cotto e che gli darà poi il colore scuro tipico di questi di questi dolcetti ovviamente anche questi vengono fritti in abbondante olio poi ripassati in padella con il miele sciolto e guarnati con tanti zuccherini colorati diciamo che in Calabria si frigge volentieri un po' di tutto sembra buono sembra buono eh sì eh sì sì tutto tutto e il presepe vivente e anche dopo il 25 c'è la messa dopo la messa del 25 anche lì ci sono gli zampognari e il gioco tipico della zona sono la murra che è un po' tipo la morra cinese ma è la morra calabrese ecco se no mi sgrizzano se dico che è tipo la morra cinese la morra calabrese poi parliamo anche della Sicilia ho parlato con amici di due zone diverse una tra Grigente e Catania e l'altro invece vicino a Mazzara nel campo bellese allora in realtà ci sono delle cose comuni perché la vigilia di Santo Stefano tendenzialmente si festeggiano meno e più che altro è il Natale con la pasta al forno tipo anellini agnello cardi cipollotti cipollotti circondati da budella di pecora e formaggio soprattutto che si chiamano stiglioli sono presenti strani e come dolci nella zona tra Grigente e Catania ci sono i pizzarruna che sono dei biscotti con il ripieno di marmellata di fichi nonostante sia un'isola c'è poco pesce o niente ma tanti piatti anche poveri con delle erbe raccolte nei campi intorno come pasta alla vigilia ci possono essere anche le busiate che sono con pesce o verdure in pastella cipolla e olive sott'olio altre cose che ci possono dire come dolci i cannoli o i ravioli di ricotta l'arancia o il cioccolato ovviamente immancabili poi ci sono anche i cantucci la cassatella con i fichi e le paste che sono pasta frolla ripiena di zuccata che è la marmellata di zucca o marmellata di fichi e mandorle però il cannolo con la ricotta è sempre un po' un must e il bello della Sicilia è anche sempre la famiglia perché tutti questi dolci tutti questi biscotti tutte queste paste vengono preparate in casa in cui le donne della famiglia si trovavano nei giorni prima e ogni giorno preparavano una ricetta diversa tutte insieme è una bellissima tradizione bella e questo è tutto quello che ho trovato sull'Italia grazie ai tuoi amici che quindi a Natale mangeranno ognuno nella sua città nel suo territorio tutte queste delicate quelle queste bontà prelibatezze ecco insomma ci stai facendo venire un po' l'acquolina in bocca e anche sera voglio dire dobbiamo tutti mangiare quindi l'acquolina ci viene quindi ci porti fuori adesso dall'Italia usciamo? mi porto fuori in Europa e nel mondo iniziamo con la Svizzera ok intanto in Svizzera ti dico si festeggia molto di più la vigilia del Natale e tendenzialmente in Svizzera si mangia carne quindi non è di magro spesso c'è la fondue quindi questi bocconcini di carne che vengono cotti nell'olio oppure anche il filetto in taig che è il filetto in crosta i dolci sono dei dolcetti tipo stelline di cannella o biscotti doppi con una marmellata di lampone oppure al cocco però è bella come tradizione svizzera quella del 6 dicembre del 5 del 6 dicembre perché il 6 dicembre come dicevamo all'inizio è il giorno di San Nicola la festa di San Nicola che è proprio vestito come babbo natale il 6 dicembre va nelle scuole dei bambini con questo con questo abbigliamento e arriva con un aiutante che poi poi approfondiamo che era l'uomo nero che in realtà alcuni chiamano Krampus con un saccone gigante e San Nicola leggeva un librone in cui c'erano scritti tutti i nomi dei bambini e se i bambini erano stati bravi gli dava un sacchetto di Utah con arachidi mandarini e ledkuchen che sono fondamentalmente pan di zenzero se non erano stati bravi invece li richiamava e gli diceva che se il prossimo anno non si fossero comportati bene li avrebbe messi nel saccone e portati via e questo uomo nero era proprio quello che li avrebbe portati via e il Krampus deriva dalla mitologia greca dalla mitologia scusami tedesca ed è un essere demoniaco che in teoria San Nicola ha domato e calmato ma che si libera per le strade del paese la notte del 5 dicembre e tu vedi proprio ci sono anche dei filmati interessanti su youtube o simili in cui vedi queste figure che hanno le corna queste facce bruttissime con i denti aguzzi vestiti proprio di stracci e con delle fruste in mano che girano per le strade dei paesi e rincorrono le persone ma sono veramente brutti da vedere sì 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 e pare proprio che ci fossero queste figure in antichità che andavano in giro a uccidere anche le persone mischiandosi con dei giovani che nella stagione invernale si facevano queste pellicce formate di piume pelli e cora di animale ed essendo riconoscibili andavano in giro un po' a terrorizzare gli abitanti del villaggio derubandoli e hanno scoperto che tra di loro poi effettivamente si nascondeva un demone che era questo Krampus che si riconosceva perché aveva le zampe a forma di zoccolo di capra e allora avevano chiamato il vescovo Nicola per esorcizzare la presenza e sconfitto il demone e nel giorno della vigilia di San Nicola appunto tutti i giovani si attraversano da demone e sfilano lungo le strade dei paesi per punire i bambini cattivi non più per depredare per rubare ma per punire i bambini cattivi poi sono sempre però accompagnati dalla figura del vescovo che aveva scompito il male che quindi li tiene sotto controllo mi piaceva molto questa storia è un po' diversa è un po' diversa perché poi alla fine anche nelle storie dei bambini c'è un po' sempre il bene e il male c'è un po' sempre anche le nostre paure il male e dobbiamo un po' esorcizzarlo e anche questi racconti aiutano un po' a esorcizzarli quindi il bene il male fa sempre parte delle favole comunque poi spostiamoci ancora andiamo in Francia a Parigi Parigi dove sono stata tante volte perché c'erano i miei zii allora le tradizioni sono abbastanza simili alle nostre di ricette particolari possiamo trovare il tacchino alle castagne e le ostriche che sono tipiche della vigilia lo champagne ovviamente che accompagna tutto passo il foie gras le lumache il salmone affumicato molto tipico come dolce è la bouche de noël che è il tronchetto natalizio che è il dolce per eccellenza del Natale francese ed è bello anche da vedere perché viene proprio decorato e rivestito e il tronchetto di Natale è un rotolo fatto con zucchero a vela uova farina e fecola arrotolato e farcito al suo interno con la ganache cioccolato e marron glacé oppure una crema di burro e decorato poi per prendere la forma proprio di un tronco di Natale e prima di diventare un dessert però la bouche de noël era un vero e proprio ceppo dell'albero che per tradizione veniva bruciato la sera della vigilia di Natale pensa è un'usanza assolutamente molto molto antica è molto molto interessante ecco altri dolci che si possono conoscere sono la galette de rois che è conosciuta proprio come la torta del re e è un dolce conosciuto in tutta la Francia e praticamente all'interno della torta viene nascosta una fava secca o un fagiolo e chi trova nella fetta questo fagiolo o questa fava secca fa il re per tutto il giorno per tutta la giornata e quindi può avere dei privilegi dei privilegi eccezionali come mangiare a volontà o impartire degli ordini però bello e sì 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 e poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo sono i tredici i tredici dolci di Natale che però sono tipici della delle tavole provenzali andiamo un po' più a sud che è un po' la trasposizione dell'ultima cena in cui i dolci rappresentano Gesù e i dodici apostoli e ogni borgo ha la sua tradizione e i dolci possono variare ma su alcuni proprio non si discute perché sulle tavole non devono mancare i mendicanti che sono diversi tipi di frutta secca così chiamati proprio in onore dei quattro principali ordini monastici dei mendicanti l'uva sultanina che rappresenta i domenicani i fichi secchi i francescani le mandorle gli agostiniani e ad ogni ordine è dedicato un frutto che ricorda proprio nel colore l'abito dei monaci un altro dolce assolutamente obbligatorio è il nougat simile al nostro torrone che deve essere però di due tipi bianco con noci e pinoli e nero al miele e mandorle e rappresenta le confaterite dei penitenti neri e bianchi poi ci deve essere la frutta fresca mele pere arance clementine simbolo di ricchezza il melone d'inverno e gli ultimi grappoli d'uva della vendemmia e i datteri che simboleggiano i re magi venuti dall'oriente altra golosità obbligatoria è la patte de quang che è una gelatina di mele cotogne tagliata a cubetti in alcune zone si aggiungono anche frutti canditi e il dolce tipico della regione è la pompe à l'huile che si tratta di una sorta di focaccia dolce a base di farina lievito e olio d'oliva aromatizzata ai fieri d'arancio molto buona ed è conosciuta anche come fougasse oggi bassier e deve essere tastativamente spezzata come Gesù spezzò il pane e mai tagliata perché porta sfortuna e i tredici dolci devono essere serviti dopo la cena della vigilia e prima della messa di mezzanotte e resteranno sulla tavola per tre giorni coperti dai lembi della tovaglia per permettere agli angeli e ai morti di venire ad assaggiarli quindi tantissimi riferimenti religiosi eh sì esatto questa è una cena che ricalca proprio tutto l'avvento tutta la nascita il viaggio i remaggi insomma la chiesa e la festività proprio religiosa di questo Natale assolutamente e beh però è molto particolare bella questa idea di mettere ogni ogni frutto legarlo poi a questi ai frati piuttosto che a questi i mendicanti è bello bello è una bella una bella fantasia insomma è un bello immaginario molto poi saliamo al nord la Svezia ok allora sulla Svezia non ho tantissime ricette a cui fare preferimento perché gli svedesi non hanno proprio una grande tradizione culinaria però beh sicuramente ci sono i lussenkat che sono i dolci tipici che sono panini allo zafferano che buonissimi che hanno anche una forma a esse per assomigliare a un gatto raggomitolato e con l'uvetta per decorazione per fare gli occhi del gatto poi nella Svezia io ricorderei fondamentalmente la festa di Santa Lucia perché è la più famosa di tutte non porta regali come capita qua in Italia però porta luce che comunque in Svezia è importante perché il giorno di Santa Lucia è il giorno più buio dell'anno e infatti c'è una sfilata di ragazze vestite di bianco con delle candele in testa che portano proprio luce molto molto bella e questo è quello che ho trovato sull'Europa sì poi se ti va passiamo nell'emisfera australe passiamo nell'emisfera australe dai che è lontanissimo da noi proprio vediamo cosa fanno cosa festeggiano facciamo gli ultimi due gli ultimi due paesi che prendiamo in considerazione sono l'Argentina e la nuova aziendata allora l'Argentina si festeggia solo la vigilia non il 25 nel 26 tendenzialmente perché si aspetta la mezzanotte del 25 e si festeggia poi con il vitello tonnato con il rollon di pollo con verdure insalata russa insalate varie cose fredde più caldo perché fa caldo l'insalata molto buona l'insalata con il cuore di palma dadini di prosciutto cotto formaggio champignon a volte pezzi di ananas condito il tutto con della salsa golf che la chiamano che è un mix di maionese e ketchup poi si può trovare il maiale cotto al forno come prosciutto condito con le mele verdi e le prugne in salsa dolci fondamentalmente una macedonia congelato la marquise che è una torta a base di brownies la meringue il dulce dell'ece ovviamente immancabile dei flan e poi in alcune case anche il panettone la frutta secca ma perché gli immigrati italiani che sono arrivati nel paese verso la fine dell'ottocento hanno portato tantissima tradizione quindi anche tanti piatti italiani alcune famiglie addirittura mangiano chiadolini in brodo che con il caldo che c'è la a dicembre non so secondo me si danno tutto il brodo nel momento in cui lo mangiano poi in tante case si crede molto di più a Gesù Bambino che a Babbo Natale quindi è molto più Gesù Bambino che porta i regali rispetto a Babbo Natale ed è molto facile anche che ci siano delle grigliate l'asado il famoso asado e poi sempre accompagnate da questi insalatone miste che rinfrescano che rinfrescano tutto come dolce ci può essere anche il piororò che è fatto di uova zucchero e farina che può essere sia dolce che salato e poi ci sono tante feste dopo feste che iniziano a luna alle due del mattino con tantissimi fuochi d'artificio le persone che ballano e fanno festa proprio fino all'alba e quindi è per questo che il 25 non si festeggia perché la gente è morta e quindi si rimane poi a casa e invece per quanto riguarda Nuova Zelanda ovviamente anche in questo caso l'ambiente è caldo quindi è molto più facile trovare delle grigliate rispetto a dei pranzi o delle cene in casa una cosa una tradizione che mi piaceva che mi hanno raccontato che mi piace tantissimo è che la sera della vigilia fanno vedere al telegiornale la planimetria e dove va buonatale nel mondo e quindi più o meno l'ora in cui arriverà così qua i bambini devono scappare subito a letto perché se no va buonatale e non porta i regali poi in Nuova Zelanda le famiglie cattoliche sono solo il 10% è una religione sicuramente di minoranza però andavano a messa a mezzanotte e poi facevano festa prima e quindi dopo il 25 la colazione era a base di uova e pancetta più che altro per asciugare un po' quella la festa che c'era che c'era stata il giorno prima poi è una festa in Nuova Zelanda vissuta come famiglia ma come famiglia anche allargata perché vengono presi in considerazione tanto anche gli amici loro la famiglia la chiamano Wanau però appunto in queste in queste feste per il 25 si faceva la festa a casa ma anche si vanno a trovare tanto gli amici quindi con delle grigliate di carne c'è uno scambio di regali si mandano formaggio uva il prosciutto cotto al forno con i greys e grandi inserate di patate tipiche della Nuova Zelanda che si chiamano kumara che sono delle patate dolci varie insalate con tutta la verdura possibile immaginabile sul barbecue facilmente c'è anche l'agnello come carne le salsicce a volte le cozze a volte si prepara l'anghi che sono dei cibi cotti in pietre calde sottoterra creano una sorta di forma ma sottoterra con queste pietre con queste pietre calde con queste hop stone come dolce la pablova magari le fragole con la panna il fudge che è un dolce che hanno rubato un po' dalla tradizione inglese e poi che dico si giocava molto a cricket andava in spiaggia si esce con altre persone per fare un'altra grigliata magari la sera tutte queste cose e una cosa molto importante che ci hanno tenuto a sottolineare questi miei amici è che si va anche molto spesso al cimitero che si chiama Urupa per andare a trovare le persone che si sono perse nel corso dell'anno e quindi proprio questa voglia di stare insieme e anche qua come musica tanti Christmas Carol nei parchi all'aperto cori di bambini adulti oppure delle varie tribù molta musica natalizia proprio dappertutto e queste sono ancora tradizioni molto molto belle molto sentite benissimo ed ecco qua il nostro giro del mondo natalizio ci hai fatto fare esatto il giro del mondo natalizio chissà che magari non ispiriamo qualcuno per a Natale cambiare se non proprio tutta la sua tradizione magari aggiungere una portata differente no perché poi abbiamo molto spesso famiglie allargate di varie culture ormai è abbastanza comune quindi magari ci sono anche tavole in cui si mischiano già le tradizioni quindi insomma abbiamo capito che l'importante poi a Natale è stare insieme quindi insomma mi auguro che le persone che ci stanno ascoltando possano condividere il Natale con le persone care questo è importante a Natale soprattutto visto che Natale è magico e che qualcuno riesca a ricongiungersi no a qualche parente perché sono anche persone lontane io ringrazio Benedetta Callegari che ci lascerà mangiare a Natale tutto quello che vogliamo tutto quello che volete sto chiaramente scherzando questo è stato un appuntamento proprio food sounds good di Christmas per augurarvi anche io ringrazio la dottoressa auguro tanti auguri di buon Natale di buone feste a Benedetta di buon anno grazie tanti auguri di buon Natale anche a te a tutte le persone che ci stanno ascoltando passate buone feste in famiglia felici con le vostre famiglie allargate con tutti quelli che volete l'importante che siano serene l'importante che siano serene cercate un po' di serenità all'interno di queste festività ma noi non finisce qua perché food sounds good riprenderà poi a gennaio 2023 un appuntamento speciale diciamo qualcosa sarà con un ospite speciale con un famoso giornalista piacentino che è Giorgio Lambri e ci racconterà le sue esperienze culinarie nel mondo quindi insomma non smetteremo di parlare di cucina abbiamo sempre nuovi ospiti la dottoressa tecnologa alimentare Benedetta Callegari che ci porta dal mondo le curiosità ci racconta del cibo della musica delle connessioni e ci parla di benessere quindi grazie grazie Benedetta grazie a tutti voi un abbraccio un saluto e un buone feste da Food Sound Good Radio Raccontiamoci eh sì questo è un Natale da poche palle sugli alberi bisogna risparmiare per fare il regalo giusto quello che dà emozione regala un audiolibro regala un audiolibro poche palle quest'anno i libri si ascoltano grazie a Radio Raccontiamoci progetti editoriali in condivisione i libri si ascoltano come un radiodramma con suoni o come una poesia che unisce musica e parole i libri si ascoltano regala fantasia per Natale regalati un viaggio nella storia l'ultima cena di Pietro Dalverme di Lorenzo Labò un audiolibro firmato Radio Raccontiamoci se Natale arriva ma manca la poesia la mettiamo noi con un pizzico di pepe ascolta poesia per Natale poesia e musica un pizzico di pepe di Giorgio Soncini è un altro dei progetti editoriali di Radio Raccontiamoci e lo trovi nella versione solo voce oppure voce e musica i libri si ascoltano e il Natale non è più una palla